L'Inps ha saltato molti, secondo noi per le valutazioni che facciamo almeno uno ogni 4, uno ogni 3 che aveva diritto alla 14esima non ce l'ha avuta. Anche quest'anno dunque moltissimi pensionati, quasi il 25% degli aventi diritto secondo la CGL, si sono ritrovati senza 14esima e la responsabilità è sempre dell'Inps. È assolutamente negativo il fatto che l'Inps non dia nessuna informazione su questo casino che ha combinato solo ed esclusivamente l'Inps. Non si presta attenzione a questo che è una situazione particolare perché stiamo parlando delle pensioni più basse, dei redditi inferiori a circa 1.000 euro al mese, dei 750 ai 1.000 euro al mese. persone spesso molto anziane che hanno difficoltà a muoversi da casa a fare una telefonata che dovrebbero essere seguite in modo diverso dall'Inps e l'Inps invece si lava le mani e lascia questa gente allo sbaraglio e non riesce ad avere risposte e informazioni certe. Chi ne ha diritto dunque? Come deve comportarsi? Se non l'hanno ricevuta a luglio devono per forza, a questo punto visto che l'Inps ha chiuso ogni possibilità di intervento da parte sua, rivolgersi alle sedi dei sindacati dei pensionati e alle sedi del patronato per fare la domanda di ricostituzione della pensione per poter avere quei 400, 500, 600 euro di 14esima che su pensioni basse di 400, 500 euro al mese sono tutta oro che cola. Diverso invece per chi ha iniziato a percepire la pensione nel 2018. Avrà la sua quota di 14esima se ne ha diritto con la pensione di dicembre quindi per il momento non deve fare niente perché prenderà la quota in dodicesimi per i mesi in cui è andato in pensione ma li prenderà a dicembre. Se a dicembre non la prende perché spesso succede anche questo dovrà rivolgersi al sindacato o a un patronato per fare la domanda di ricostituzione per avere quella 14esima se è nelle condizioni di averla.